I super campioni di reazione a catena sono i 3 di denari Questa sera hanno accumulato 154 mila euro le cuffie ragazzi Ditemi come sempre se sentite bene la mia voce in cuffia E allora giochiamo l'ultima catena Iniziamo sempre da Marco, due jolly a disposizione Intinta B Zuppa Bagnata In tinta, suonimo di bagnata e zuppa bagnata in senso fradicia Vediamo Perfetto, proprio così Una ciambella in tinta nel latte E' proprio come dire bagnata dal latte Essere bagnata è essere zuppa Ottimo, Francesco Zuppa V Pelle Gioco il jolly Gioco il jolly Ok, allora aggiungiamo una lettera e lo potete condividere Zuppa V E Pelle Ah, io pensavo tutt'altro Come zuppa, pelle, pelle Vecchia Vecchia Sì, può esserci Zuppa, vecchia Vecchia pure Vecchia 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 Vediamo No, non è vecchia la parola corretta Dimezziamo Altra lettera Zuppa V E L Vellutata 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 Michael Pelle F Fiore Fior A fior di pelle è un fior fiore Vediamo Giusto Bravo Michael A avere i nervi a fior di pelle Ad essere nel fior fiore degli anni Ottimo Sempre 77 mila euro Riprendiamo il giro da Marco Avete ancora un jolly a disposizione Fiore P Rossa Gioco il jolly Aggiungiamo una lettera e lo potete condividere Fiore P R Rossa P Rossa Pressione Rossa Presa Rossa Pronta Fiore Rimula Primula E' primula Giusto La primula è un fiore E si dice primula rossa qualcuno che ti sfugge che non riesce ad acchiappare una primula rossa Bravi bravi Mancano due parole Sempre 77 mila euro Tocca a Francesco Rossa C Marinare Carne Carne rossa Marinare la carne magari con delle spezie Vediamo Esatto Proprio così Rimangono 77 mila euro intatti E una parola per chiudere questa catena Michael Marinare S Guida Scuola Marinare la scuola quindi saltare la scuola e la scuola guida dove si prende la patente Se scuola è esatto andate all'ultima parola con una grande somma 77 mila euro Vediamo E così bravi bravi Grande cifra anche questa sera per i tre di denari perché ben 77 mila euro è il valore dell'ultima parola Concentrati troviamola Ovviamente si parte da guida C-O-A finale e terzo elemento Ragionate Condotta Cometa Cometa La cometa guida i magi Oppure Guida Guida di Una guida Una guida Per il giro Per il giro Per il giro Corretta Corretta Una guida Un cane guida La guida sul lato opposto magari come in Inghilterra com'è che si può dire no? Contraria 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 Collina no Contesa Una colta Una guida Essere una guida, essere un modello, essere un esempio Essere un esempio Condivisa, guida condivisa No Combinata Guida di montagna Allora, ne avete dette tante C-O-A finale Ce n'è una che secondo voi è la parola esatta che vale 77.000 euro o volete comprare il terzo elemento? Ce n'è qualcuna ma comunque compriamo il terzo elemento Compra Allora dimezziamo, la cifra rimane molto alta, 38.500 euro, vi ricordo che loro hanno già vinto quasi 350.000 euro Frantumando veramente ogni record di reazione a catena Ecco il terzo elemento Passaggio Passaggio della com'è Passaggio della com'è Oppure? Oppure aspetta Allora Condotta Quindi passaggio contrario Condotta è un passaggio dell'acqua o dell'aria Condotta con guida E fare un passaggio, una assist, una corsa Passaggio di consegna 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 Quante si guida? Ma guida consegna? Cometa Cometa Allora Cometa Mi dite qual è la parola che secondo voi questa sera appunto vale 38.500 euro? Cometa Cometa Toglietevi la cuffia, grazie Mi spiegate perché? Allora Abbiamo pensato che la cometa guida i re magi Quando portano i doni a Gesù E il passaggio della cometa appunto è Ok Ci può stare Un'altra parola che voi avevate detto Era Condotta Sì Ok Condotta Ci può stare Passaggio Perché la condotta di solito è un passaggio Qui passa l'acqua, l'aria, qualcosa del genere E guida? E una guida Che è qualcuno che conduce di solito Però non so se Si sposa benissimo Vediamo Vale 38.500 euro L'ultima parola questa sera è Seconda Ha vinto ancora Non li ferma più nessuno Non li batte nessuno E non li ferma nessuno Incredibile Altra grande vittoria Dei tre di denari a reazione a catena TG1 Buona serata